353 e una coppia di comodini con struttura in legno e sostegno centrale in vetro di forte spessore di produzione italiana degli anni 40 centimetri 70 per 65 per 30 viene messo in gara a 600 euro Gabriele mi offri 650? aspetto 650 Gabriele 700 Doriana o la sala o il web? 700 Doriana no, 650 l'ha fatto lui aspetto 700 da Doriana, dal web o dalla sala o dalla televisione 700 sala 750? chi mi offre 750? 750 telefono 750, 800 sala 800 sala, aspetto 8,50 8,50 dai telefoni 8,50 telefono 8,50 900 sala 9,50 telefono 900 sala 9,50 telefono aspetto 1000 dalla sala 1000 sala 1100 telefono 1000 sala aspetto 1100 1200 sala 1100 telefono 1100 telefono per la prima 1100 telefono per la seconda se non vedo altre offerte si aggiudico al telefono a 1100 12123 tuo 1100 377 Barovietoso lampa da sospensione con strutture nottone bracci in vetro trasparente lavorato a torsion Barovietoso e gli anni 60 120 per 120 1000 euro da confermare 1000 confermati web 1000 web mi offri 1100 1100 Doriana 1100 Doriana aspetto 1200 dal web 1200 web 1300 Doriana 1300 Doriana aspetto 1400 1400 dal web 1400 1400 web aspetto 1500 1500 aspetto 1600 aspetto 1600 dal web 1600 aspetto 1700 dal telefono 1600 1600 web 1600 per la prima per la seconda 12123 tua Valdemaro lotto numero 378 tavolino con struttura in legno di acero piano in vetro molato degli anni 50 50 per 45 di diametro 300 350 350 350 euro 350 è mio 350 mio 350 è mio 400 400 sì scusa un po' un secondo no lei ho bisogno di lei io non vedo chi ha lasciato sta roba mi puoi spostare un po' più in qua questo per favore perché guarda è qui 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 sempre qui cosa vuoi fare per spostarmi questo pezzo farmi vedere ah sì 350 1 2 1 2 3 scusate stavo facendo un'altra cosa mi chiedo perdono intanto non ce n'era nessuno ha ragione lotto numero 390 bis Paolo Buffa scrittoio in legno di noce con un cassetto 68 per 80 per 49 500 per il banco 500 banco aspetto 550 da Gabriele 550 sala aspetto 600 dai telefoni 600 Doriana 650 chi offre 650 650 Gabriele prima Gabriele aspetto 700 700 700 Doriana 750 chi offre 750 750 aspetto 800 Doriana 800 800 Doriana aspetto 850 Gabriele 850 850 900 Doriana 850 per Gabriele aspetto 900 900 Doriana 950 Gabriele 950 Gabriele 1000 Doriana 950 Gabriele 1000 Doriana 1100 Gabriele 1100 Gabriele 1000 Doriana può intervenire la sala ovviamente 1100 Gabriele 1200 Doriana 1200 Doriana aspetto 1300 da Gabriele aspetto 1300 da Gabriele 1300 da Gabriele 1200 Doriana 1200 Doriana se la sala vuole intervenire a 1300 1200 Doriana 1200 1 2 1 2 tuo Doriana 1200 lotto numero 435 lampada da terra con struttura in metallo laccato e ottone diffusore in vetro soffiato e satinato prodotto a stil novo negli anni 50 al 6 centimetri 165 viene messa in gara a 400 euro per offerta ricevuta al banco 500 per me 500 per me 500 per me 500 per me 500 per il banco 600 per me volevo far risparmiare 600 per me 600 banco 600 banco 850 850 avevo 800 per cui 850 è valida 850 per il web 850 per il web 850 per la prima 850 io ho 800 quindi io ho 800 800 per il banco 800 per il banco offre 850 800 per me 800 per me 800 banco 800 per la prima per la seconda 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2